Amici di Volonvrij, siamo qui a Palazzo Barolo a Torino all'inaugurazione della mostra Dialoghi Dialogue che sancisce la collaborazione fra il Kunsthaus Cat 18 di Cologna e il Kunstmuseum di Bonn. Abbiamo due delle rappresentanti di tutte e due le istituzioni, alla mia destra, spero di pronunciarlo nel migliore dei modi, Jutta Persges di Cologna e alla mia sinistra abbiamo Sabina Lesman di Bonn. Ti chiederei di presentare la tua istituzione per cui lavori. Cosa fate? Siamo un laboratorio, un'istituzione con un posto laboratorio, poi di esposizione e anche un posto di progettazione, una casa nel centro di Cologna e facciamo dart come professione con le persone con handicap mentali, disabili, come si dice? Con disabilità intellettiva sarebbe la termine, però abbiamo capito. Ok, a posto. Sono 24 persone che vengono come full time o part time e loro hanno il suo posto nell'atelier e fanno la sua ricerca artistica e noi offriamo degli tecnici diversi. Siamo un team con gli artisti professionali che danno un'assistenza a questi artisti che vengono. Sabina, invece il Kunstmuseum di Bonn, che cos'è e cosa fa? È un museo d'arte contemporanea e facciamo naturalmente tanti workshop e abbiamo una collaborazione forte con il Kunsthaus Cat 18 perché sono cinque artisti che arrivano ogni domenica, uno per volta, ogni domenica arriva uno per fare mediatore. Quando offriamo un workshop per le famiglie, bambini piccoli, adulti, genitori, ci sono anche loro che fanno parte del nostro team che è una collaborazione molto bella, molto speciale anche perché vogliamo che lavoriamo insieme, che il pubblico è così diverso come anche il team che lo gestisce. Quindi, giusto per capire, voi non ospitate solo artisti irregolari, ma è un museo dove ospitate opere d'arte contemporanea e anche comunque artisti che vengono appunto da Cologna. Giusto, sì, è un museo sul livello internazionale, una collezione molto importante della Germania e come ogni museo abbiamo questo dipartimento didattico, si chiama, dove lavoriamo con la gente, che presentiamo le opere, le coinvolgiamo nelle attività e loro fanno parte. Però abbiamo anche fatto già una mostra con una di questi artisti che sono anche adesso venuti a Torino, che si chiama Tania Gais e abbiamo fatto una mostra con lei per bambini e ragazzi, proprio una sala e lei ha fatto un bellissimo allestimento, ha fatto dipinti come qua, però tutto a mano. Abbiamo muri alti come Palazzo Barrolo e lei ha fatto questi disegni di tre metri di altezza, veramente un'opera enorme. Bene, mi sembra che sia un progetto bellissimo. Io vorrei chiedere a una delle due come è nata invece la collaborazione con l'Italia, con Teat Aramino. Noi collaboriamo da tantissimi anni perché non conosco un posto così che si concentra e abbiamo un modo comune di collaborare e visto che Teat Aramino ha creato questo dipinto con, già lì abbiamo partecipato, però non con artisti professionali, però con allievi di scuola e siamo sempre venuti per essere qua perché sappiamo che qui ha fatto un lavoro veramente eccellente che ci piace tanto. Grazie, insomma dei complimenti. Invece parlando a livello artistico, le opere che vedremo nella mostra Dialoghi e Dialoghi, che opere sono? Come sono state realizzate? Come ha detto Sabina, abbiamo questa collaborazione tra Kunsthaus Katarzen e il Museo di Bonn e abbiamo fatto una ricerca sulla architettura del Kunstmuseum Bonn anche per conoscere il luogo e per organizzarsi per l'orientierung e abbiamo fatto dei disegni nel museo, anche una serie di fotografie e dopo nel nostro atelier ognuno ha scelto un spazio, una situazione dell'architettura architettonica che piace tanto e ha fatto dei disegni su questa situazione e dopo abbiamo mandato i disegni a Torino, abbiamo ricevuto i disegni dagli artisti di qua e è stato molto interessante e intensivo perché i spazi sono così diversi. Non sapevamo se è molto invadente, se gli artisti lasciano questo spazio agli altri, se potrebbe anche essere una vulnerazione se uno disegna nel mio disegno. Invece ognuno ha trovato la sua strada, abbiamo Daniel per esempio che ha lasciato sempre spazio, ha fatto un disegno mai completato per dare la strada agli altri e così ognuno ha trovato un suo modo e alla fine si sono sviluppati questi disegni veramente unici. Benissimo, ultima cosa prima di lasciarvi andare, verranno poi gli artisti italiani in Germania, vero? Ecco, sì, questo è molto importante. Non volevamo solo avere questo viaggio della fantasia, della mentale, ma anche proprio quello fisico. Noi adesso abbiamo la fortuna di essere qua con cinque artisti e a maggio ci sarà la stessa mostra di questi disegni a Colonia dell'ambasciata italiana di Colonia e allora ci saranno artisti che hanno fatto parte di questo gruppo che faranno lì. È proprio quello che vogliamo scambiarci. Ed è proprio il significato del titolo della mostra che è Dialoghi, Dialoghe, no? Quindi insomma bellissimo concetto. Ringrazio le nostre due ospiti e buon lavoro. Grazie, grazie molto.